La Vergine e l'amore. Allora, apparentemente i nativi della Vergine possono sembrare anche un po' vulnerabili, perché sono talvolta un po' malinconici, un po' tristi, ma non scambiate questo per, diciamo, per depressione, perché non lo è. Allora, diciamo, il segno della Vergine riesce a distaccarsi spesso dalla propria personalità e può sviluppare anche un po' indifferenza. È il segno più razionale dello zodiaco. Desidera, praticamente, che gli altri lo aiutino a provare dei sentimenti. Si offende se, diciamo, le persone non dimostrano, prima che, diciamo, sia lui dimostrare. È un segno particolare, è un punto debole della sua personalità e che pensa di valere più degli altri e quindi vive spesso un irriducibile rancore. Se voi parlate con, come possiamo dire, con ammirazione di altre persone, tende a prendersela. Ha paura, diciamo, di uscire un po' dal suo mondo, dal suo guscio e ha bisogno di amici e in amore prende meno cantonate di quante ne prenda, diciamo, con le sbandate. Diciamo, perché talvolta si vive, siccome blocca molto le emozioni, talvolta si vive del pathos. Apparentemente, diciamo, verso le relazioni sentimentali effettive ha un rapporto molto razionale. Però poi gli succede di prendere delle cantonate, di prendere delle facciate, diciamo, con alcune situazioni. Essendo iperlogico tenderà a non lasciare, diciamo, la persona con la quale ha iniziato una relazione, a meno che non ci sia proprio una vera delusione, una delusione molto forte, tenderà, diciamo, a non essere tanto fedeli. Da un punto di vista della gelosia non è eccessivamente geloso, perché la logica e la razionalità prevale sull'istinto. La sessualità del signo della Vergine è una sessualità fredda, è una sessualità cerebrale. Ama le trasgressioni, soprattutto a livello mentale. Questo vale sia per l'uomo che per la donna. La donna, tra l'altro, è ancora più aggressiva da questo punto di vista e ha il gusto delle situazioni piccanti e nella vita si lascia coinvolgere totalmente, morbosamente, da una passione. Quindi le passioni prendono la Vergine anche se poi dopo si tira indietro. È una donna molto efficiente, ordinata, quindi le piacciono le cose utili e la relazione poi fondamentale della sua vita non sarà per amore, ma sarà per ragione. Quindi è uno di quei segni in cui la ragione tende a prevalere sul cuore. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai le notifiche dei nuovi video. Seguimi su Instagram, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. Grazie a tutti.